A Ismail Shaheen il premio quale miglior cortometraggio con il film Akim nella sezione Children's World. Ismail, un giro a mondo se vogliamo. La tua famiglia è di origine? Della Turchia. Turchia. Tu sei nato invece? In Germania. Poi so che hai fatto anche un tirocino in Italia, a Firenze, vero? Sì, ho studiato la scenografia sul teatro studio di Scandici. Poi ha frequentato la scuola di teatro in Germania, un seminario a Hollywood anche? Anche, sì. Insomma, che cosa ti è rimasto da fare ancora? Non lo so, produzione, non lo so che cosa. Comunque giovanissimo anche lui, Ismail, questa è una costante, il nostro festival. Akim, la storia ce la vuoi raccontare in pochissime battute? La storia è di un bambino che perde sua madre, che perde i parenti su AIDS. Si trova al fine in una casa per i bambini che hanno perso i parenti. Per me era importante raccontare una storia con i desideri dei bambini. Non volevo fare un corto che scioccava il pubblico. Volevo che il pubblico pensa sulla situazione in Africa. E credo che ci sia riuscito appieno. Un premio che... come lo giudichi questo premio, questo Benurro che rappresenta un po' in effetti il cinema? Ma il cinema è importante. È un bellissimo premio, è anche bello che viene dalla UNICEF, mi fa soddisfare. Si dice soddisfare? Sono soddisfatto. Siamo anche noi soddisfatti di averlo dato a te. In effetti diceva e sottolineava Ismail l'importanza anche che a patrocinare questa sezione sia proprio l'UNICEF. Questo perché ci rivolgiamo al mondo dei bambini. Ismail, quali altri lavori sono in cantiere? Che cosa farai da qui a breve? Quest'anno, fino all'anno, voglio fare un altro accorto. Si tratta di FGM, del taglio delle donne in Africa. Che è una cosa anche importante perché qua in Germania succede che le famiglie africane vanno con i bambini in Africa durante le ferie. Fanno questa brutta tradizione e questo è il prossimo film che voglio fare. Quindi preferisci trattare temi importanti? Sì. Bene, tanti tanti auguri per la tua carriera. Grazie.